Ciao a tutti amici e appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Tega per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare migliori letture del mese di febbraio, ovviamente è la mia personale, riferita solo alle uscite del mese, non a recuperi, ristampe, nuove edizioni eccetera 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 o recuperi vari, solo i manga effettivamente usciti per la prima volta in Italia questo mese. Posizione numero 10 per i viaggi della strega, editor of light manga 7 e 50. Bello, carino, manga fantasy, abitazione fantasy, poi lei è molto stracarina, è molto kawaii, è una waifu particolare, molto carina secondo me. Anche la storia qua, questo volume è un volume unico, cioè nel senso che è una storia unica, non è come gli altri volumi che ci sono diverse storie. Qua dall'inizio alla fine racconta solo una storia, ovviamente divisa capitoli però è solo un racconto molto molto intenso che comunque ti prende... L'ho trovato davvero carino questo racconto e mi è piaciuto parecchio, devo dire. Lo consiglio, peccato che sia un po' sottovalutato anche per il fatto che esce proprio col contagucce, c'è l'anime e purtroppo spererei che uscirà di più. Siamo in pari in Giappone, in Giappone anche in Giappone ovviamente esce davvero col contagucce. Passiamo a posizione numero 9 per My Hero Academia, volume 35, 5 ore 20, della Star Comics. Le copertine sempre pazzesche, devo dire, ultimamente. Qua ci stiamo piano piano, anzi è iniziato lo scontro finale tra l'Hero e i Villain. E quindi ne vedremo delle belle, mi aspetto molto di più nel prossimo volume. Questo è solo l'anticipo, c'è proprio l'antipasto dello scontro, quindi... Però i disegni sono comunque molto molto belle, ci sono delle tavole davvero pazzesche. Vedremo... Incomincia a formarsi le coppie degli scontri, cioè chi affronterà chi. Ne vedremo davvero delle belle, perché oltre allo scontro c'è anche il passato che lega due personaggi tra di loro che si affronteranno. E quindi vediamo. Posizione numero 8 per Glepnir, volume 12, edito da Planet Manga, 7 euro. È una bomba sto volume, forse è il volume più bello finora uscito. Scontri pazzeschi, disegni assurdi. Le prime pagine... Sembra quasi... Sembra quasi l'attacco dei giganti, cioè la prima pagina. Sembra proprio un rimando agli attacco dei giganti quasi. Ma anche la copertina in effetti. Però è un survival game comunque pazzesco. Non manca molto la conclusione, si sta avvicinando... Anzi, inizia anche qua lo scontro finale, piano piano. E anche qua non mancherà molto la conclusione, ecco. Però l'ho apprezzato parecchio questo volume. Posizione numero 7 per Demoslayer 22, il penultimo volume. 5,90 euro. Anche qua siamo... Comunque è già da un po' che siamo nello scontro finale. Siamo entrati proprio nella fase climax. Anche perché il prossimo è l'ultimo volume, quindi... Vedremo il nostro protagonista Tanjiro come piano piano riuscirà a guadagnare sempre potere con varie tecniche. E soprattutto, aspetto con Anzea volume 23, l'ultimo volume. E vedere come riesce a sconfiggere Muzan. Che è quasi imbattibile. Però la squadra ammazza da demoni, piano piano, un pezzettino a volta, riuscirà a scalfire questa corazza impenetrabile. E ad averla meglio, penso che ci sia un happy ending. E... Me lo credo. E quindi poi... Non aspetto tanto dall'ultimo volume. Posizione numero 6 per Bluelock. Prezzo 7 euro, volume 19. Edito da Planet Manga. Bluelock è comunque sempre molto molto bello. Ogni volume... Forse un paio non sono stati così al massimo. Però comunque ha un livello... Si mantiene con un livello abbastanza alto nella media. Dei volumi, anche qua... Anche il nostro protagonista... Verso fine volume... Inizierà a farsi vedere... Ma di più... Mi aspetto nel 20. Sembra che mi sto ripetendo, ma... Davvero... Questi volumi sono sempre... A un passo dal meglio. A un passo di fare la conclusione. A dare la svolta. Si percepisce che il prossimo... Ci succederà qualcosa di davvero importante. E niente. E quindi... Aspettiamo. Posizione numero 5 per... Cannibal volume 8. Prezzo 7 euro della Ikari. E niente che dire. Cannibal è sempre stato in classifica. Almeno nella top 5. Ed è pazzesco. Anche qua... Ti prende parecchio. Soprattutto il nostro protagonista. Davvero. Verrà preso parecchio. Tante emozioni. Che il lettore... Non sa mai cosa aspettarci. Un colpo di scena dietro l'altro. Sembra che sta andando tutto bene. Può succedere qualcosa. E quindi... È un'azione unica. Non è un momento di... Un attimo di respiro. Di riflettere... Su quello che sta succedendo. Perché... Subito... Succede qualcosa che si scombussola. Le idee. I piani. Quindi... È qualcosa in più che davvero apprezzo. Fidatevi. Gannibal merita. Merita tantissimo. Posizione numero 4. Per Tokyo Revengers 23. Edito da J-Po. Prezzo 6,50€. Qua diciamo... Entriamo nell'arco narrativo finale. Il nuovo e ultimo arco. Le anticipazioni di quel che sarà. E... Alla fine. L'ultima partita ci lascia con un colpo di scena. Pazzesco. Non dico altro. Per non fare spoiler. Però questo... Si è risollevato un po' rispetto agli ultimi volumi. Devo dire. E quindi... Sono davvero curioso. E voglio andare a vedere. Posizione numero 3. Per Kingdom 56. Edito da J-Po. 6,90€. Questo è uno dei manga storici. Probabilmente migliori. Incentrato sul periodo degli stati combattenti. In Cina. Che c'erano 5 stati che si facevano a guerra. E il nostro protagonista che sogna diventare il generale più forte della Cina. Ci riuscirà. È ancora molto ma molto lungo questo manga. Non ho per nulla idea di come finirà. Di sicuramente. Secondo il piano d'autore almeno a 100 vuole arrivare. E quindi c'è ancora molto ma molto lungo. Però anche qua. Scontri battaglie pazzesche anche in questo volume. Anche qui mi aspetto la fase finale della battaglia. Nel prossimo volume. Se non... Se si concluderà forse addirittura nel 58. Fra due volumi. Comunque entriamo nello sconto finale. Anche qua. Sto mese. Parecche cose finali che si avvicinano. Sono davvero curioso. Posizione numero due per l'immancabile. La stella dei Giants volume 6 della Dint. 24,90 euro. Questo è un nuovo formato meglio. L'edizione italiana esiste solo qua. Perché prima non c'era. Beh. Non c'è mai stata. Però sono quasi tre volumi in uno della vecchia serie. Cioè dell'opera originale. Nel formato originale giapponese. È uno Spokon basato sul baseball. Ma è molto ma molto di più. Davvero merita. Ve lo consiglio. Leggerlo almeno una volta nella vita. Perché merita tanto. E io non sono un amante degli Spokon. Se mi conoscete. Però questo merita tantissimo. E lo leggo sempre con piacere. Posizione numero 8. Anche questo ma è sempre in classifica. Cioè posizione numero 1. Scusate. Anche questo è sempre in classifica. Per solo leveling. Volume 11. Edito da Star Comics. Prezzo 9,90 euro. Questo è un Mawa. Tutto a colori. Colori fantastici. Il nostro protagonista. Ogni volume diventa sempre più OP. Sempre più potente. Ogni volume che passa. Con magie. Abilità. Tecniche. Davvero. Superbe. Fantastiche. Scontri davvero. Mozzafiato. Merita davvero tanto solo leveling. E' forse il Mawa più bello che ho letto. Anzi senza forse sicuramente il Mawa più bello che ho letto finora. E' tanta tanta roba devo dire. Io vi ringrazio. Anzi vi invito a scrivervi qui sotto la vostra personale classifica. Noi ci vediamo ai prossimi video. Mi raccomando mettete like e attivate la campanellina. Noi ci vediamo ai prossimi video. Noi ci vediamo ai prossimi video. Grazie.